Com'è andata? Speravo di stare un pochino meglio, sto lavorando, sono qua da dieci giorni, personalmente non ero neanche sicuro di riuscire a fare i 90 minuti, devo lavorare. Per quanto riguarda la squadra, secondo me abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato il gol, come ci è mancato il gol la settimana scorsa, però stiamo lavorando, non bisogna dimenticare che è una squadra tutta nuova questa, fatta da due mesi, e quindi dobbiamo lavorare. Il secondo tempo abbiamo, o meno personalmente, apprezzato il recupero decisivo su Vassallo? No, il primo tempo era un po' compassato, facevo fatica un po' a trovare i meccanismi, comunque questa è la prima partita dopo che ho finito il campionato l'anno scorso, era un po' poco lucido, al secondo tempo mi sono sciolto un pochino, è stato un pochino più facile stare in campo. Abbiamo sentito che il mister Albini ha detto una partita che apprezziamo soprattutto a livello tattico, anche voi in campo avete avuto questa sensazione? Secondo me è stata una buona partita la nostra, abbiamo lavorato bene, l'abbiamo preparata in settimana, quindi tatticamente siamo andati bene.